Stamattina a Napoli la protesta degli ambulanti dopo la decisione della regione di chiudere i mercati sui controlli. Il Comitato per l'Ordine Pubblico in Prefettura Napoli ha deciso che per il coordinamento sarà attivato un tavolo tecnico in questura. Andiamo sul Lungomare di Napoli da Claudio Papagiani. Sì Letizia, secondo giorno di Lungomare chiuso, così come i parchi per effetti dell'ordinanza del governatore De Luca. Il Lungomare, tranne che per il passaggio delle auto e i lampeggianti alle mie spalle della Guardia di Finanza, è veramente spettrale. Questa mattina qui la manifestazione improvvisata dei venditori ambulanti che hanno anche inscenato un blocco stradale davanti al Palazzo Santa Lucia, protestano per la chiusura dei mercati già dall'uno di scorso della zona rossa e da domani alle 15 chiuderanno sempre nei mercati anche i negozi, gli esercizi che vendono generi alimentari. Aumentano perfetto del PCM, delle nuove ordinanze, i controlli che è quello che poi vengono chiesti maggiormente, vengono chiesti più controlli anche dai cittadini. Capitano delle Femmine, buonasera, come vi state organizzando? Ci siamo disposti nell'ambito di una vigilanza dinamica che mette in campo questo fine settimana più di 200 automezzi e 400 risorse operative al fine di controllare l'ambito cittadino metropolitano suddiviso in quadranti con più pattuglie che monitorano costantemente giardini pubblici, piazze, lungomare. Ovviamente il controllo di polizia verterà sul controllo dei dati forniti dai cittadini nell'ambito delle autocertificazioni. Ricordo a tutti quanti che le motivazioni devono essere nell'ambito di esigenze lavorative, di necessità nonché di salute. Ovviamente le sanzioni alle quali possono andare incontro i cittadini sono quelle sancite dal decreto legge numero 4 del numero 19 del 2020 che ripercorrono delle sanzioni che possono andare da 400 a 1000 euro, che possono essere aumentate di un terzo se commesse con l'utilizzo di un veicolo e in caso di reiterazione possono divenire anche al doppio della sanzione pecunaria amministrativa stessa. Conseguentemente noi impronteremo l'attività di controllo su un rispetto rigoroso di quelle che sono le restrizioni che sono state ulteriormente impartite dal Presidente della Giunta regionale. Ringraziamo il Capitano delle Femme della Guardia di Finanza di Napoli e da Lungomare è tutto.